Invece, che partita è sembrata, Luca? Oggi hanno segnato il loro primo gol in trasferta della stagione e alla fine sono riusciti a portare a casa la vittoria su un campo per niente facile. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Grazie e a presto, Fabio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.